Mentre di qua. Mi piace un sacco il suo stile, ma proprio tanto tanto tanto. Però il villaggio è tutto distrutto. Tutto corrotto però il villaggio. Esamina. Ti aspetterò al santuario dell'acqua nella foresta dimenticata. Si è chiuso quindi dobbiamo distruggere prima quegli altri e poi si apre lui e distruggiamo lui. Mi sa di sì. Ci vuole far capire questo. Ok, vai. No, il cazzo, vai. Ma c'è lui. Vai, Akagir. Ok, prendiamo coraggio. Ok, va qua. Uno fatto, mancano gli altri. Vai lì. Vai lì. Ok. Si è aperto ora. Eh, Arfi è tu. Carrello di cappelli scoperto. Abbiamo le cose del preordine. Genera karma sconfiggendo nemici corrotti, ripristinando l'ambiente e trovando frutti da far mangiare ai due rot. Dal menu potenziamento usa il karma per sbloccare nuove abilità. Kenna può migliorare le sue abilità di base e infondere le sue abilità con i rotto per produrre potenti attacchi. Ok. Gettati nella mischia. Inizia. No, questo è. Karma aggiuntivo richiesto 100. Ne abbiamo quanto karma? 50. Mentre corri premerebbe per seguire un attacco rapido o ampio. Vai, sblocca. Fungo, nuovo cappello disponibile. Che cos'è? Pentolo, nuovo cappello disponibile. Posso equipaggiarli tutti? Oddio, no. Posso equipaggiarli con diversi cappelli. È il cappello da festa. Oddio, hanno tutti i cappelli differenti. Che cosa sei tu? Lo voglio. Trifoglio. Dammi tutto, dammi. Dammi tutto, dammi. Trifoglio. E sono tre senza nulla. E si compra questo. Easy. Due trifoglio e due pentola. Si goda. Questo cosa c'è? Nuovo root? Oddio, ma devo dare i cappelli a tutti i root. Che non sono root, ma sono rotto. Perché li chiamo root? Oddio mio. A lui festa. A lui festa, basta. Deciso. E dove devo andare ora? Carlo dei cappelli, centro del villaggio. Dobbiamo andare qui. Aiuta Taro, sì. Da questo lato. Eccoti qua. Parla. Santuario delle maschere. Degli alberi sacri. Ok, santuario delle maschere. Ok, qua. Giusto? Sì. Guarda, hanno tutti i cappelli. Adoro. Non lo schiacciate, vorrei. Ma tutto è spirito. Non lo schiacciate. Ma te chciate, non lo schiacciate, non lo schiacciate. Qual era il suo fratello? Il loro fratello? Qui sono stati, i maschi si sono diventati a scura, aiutando la passione del spirito a la prossima vita. Il mio padre era un guide di spirito. Il nostro tradizioni sono diversi, ma... ...il aiutato molti spiriti passare dalla vita alla prossima. Quindi, tu sai cosa succede a spiriti non potenti andare a continuare. Prendi la maschera di Taro. È basato al spirito di spirito. E vi aiutare a rilassare la tua promessa ai figli. Guarda dopo Benny e Saiya. Il loro fratello sarà difficile per loro capire. Maschera di Taro. Premi fraccetta sinistra per indossare maschera degli spiriti. Guarda attraverso le maschere per trovare la tua strada. Apri le barriere degli spiriti e rivela oggetti importanti nell'ambiente. Le maschere degli spiriti sono utili per trovare rotto e nascosti nel mondo. È tipo un occhio dell'Aquila di Assassin's Creed. Quindi faccio così. Prima persona addirittura. Quindi ora devo andare di qua. Ok, in barriere degli spiriti. Qua c'è un altro. Non vedo Toby da tempo ormai. Di solito gioca con i bambini dall'altra parte della strada. Di qua quindi? Cos'è questo? Ok, c'è qualcosa lì. Ah no, si è buggato. LOL Almeno c'è il simboletto sembra. Ok. Hai trovato qualcosa che apparteneva a un abitante del villaggio. Riportalo a casa sua nel villaggio. La posizione è segnata sulla mappa. Ah ok. È qua di fronte. Uh è lì, è lì. Consegna. Ho sbloccato qualche... Ok, ho sbloccato qua. Anche i nemici sono molto ben fatti eh. Anche i nemici sono molto ben fatti. Ok. Andate lì. Abbiamo purificato la casa. Qui è apparso lo spirito. Ma guarda che sei carino tu. Cos'è? Fungo giallo, nuovo cappello rotto. Si gode. Quello che ci serve. E questi sono? Che sono queste cose? Ah, se li mangia lui. Ok. Sono cose che si mangiano loro. Sono scappati alla velocità della luce. Guardali, guardali. Guardali come si... A ingozzarsi. Proprio guarda questo. Pare che non mangia da una vita. Ne manca uno. Ah, gli sta preso ovviamente. Ce ne è uno nuovo. Dieci. Ne mancano cinque. Quindi quello che dice il santuario dell'acqua, al santuario dell'acqua probabilmente ci sarà la sua cosa per sbloccare casa sua. Qua ce n'è un'altra. Vediamo. La neve si sta sciogliendo velocemente quest'anno. Vediamo se il passo verso la casa di Rusu è aperto. Passo verso la casa di Rusu. Dove sei tu? Dove devo andare? Ok, devo tornare qui. E andare dritto. Non riusciamo a passare. Allo scudo. Gli Rot possono purificare i fiori speciali e ripristinare la salute di Kena. Manda i Rot su di essi premendo X. Al di fuori dei combattimenti la salute di Kena si ripristina automaticamente. Ok. Quindi quello. No, mi serve coraggio però. Ok. Ah, mi ha colpito. Ok, ho ricordo l'aiuto. Ahiai ahiai. Schiva. Ancora cento, c'è? Ok. Ok, vai lì. Che cos'è? Le lacrime della foresta ripristino temporaneamente la forma di igiene dei rot. Usa R per spostare la nuvola. In questa forma i rot possono attaccare i nemici, distruggere le barriere, eliminare la corruzione. Wow. La foresta ripristino. È così bello, guarda lui. Ha, deve avvicinermi qua. Ha saputo alcuni tricci, Keina? Feroce. Ok. Qui, Keina, c'è qualcosa nel giro. Eh, ma là ce n'era uno prima. Come l'attivo? Che è sta cosa? Ah, è quello? Cioè, lui la mette lì? Ok. Vai qua. Vai ultimo qui. Ok, aspetta, facciamo di nuovo. Questo cos'è? Interagisci? Wow. Ho preso un po' di soldi. No, di qua. Curvatura. Ah, per potenziarmi. Quanto ne ho? 115. Ti ho premuto eh? Premi X perché era un martello. Vai questo qua, certo. Aspetteremo qui, vabbè ci penso io. Devo provare il nuovo attacco. No, non me l'ha fatto provare. Ah, posso usarlo anche? E voi fate ma... vabbè fanno malissimo. Eh, sarebbe troppo... ok. Ma no, one shotati. Andate lì. Ahia. Ma dove cazzo sono andati i cosi? Oddio, sto morendo. No, sono morto. Ok, sono morto. Au. Dove sono gli amici, là? No, non ho coraggio. Ok. Nooo. Che dolore. Bloccatelo. Ah. Non faccio un cazzo di danno. Oh. Via. Sono morto. No, quasi. Non ancora. Non ancora. Madonna, che rischio! Che rischio! Non è così facile come sembra, eh? Se c'è tanta gente è bello difficile otto. Vai là, vai là, vai là. Ok. Uno nuovo. Hai visto cosa ha fatto quel mosso? Te l'avevo detto di poter aiutarci. Ci stiamo avvicinando, ok. Vieni qua. Qua c'è la roba, ok. Forziere. Fiocchettino, oddio, è un papionne o un fiocchettino in testa? E un fiocco in testa. Non ce la faccio, ce la faccio. Devo comprare tutti, assolutamente tutti. Cambiato la... Tutto, cambiato tutto. È Taro. Oddio. Mi maschera? È Taro? Ho tutti i ricordi di Taro. Taro! 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 Taro!